Dopo il successo del 2015 ritorna a grande richiesta il tour B4IT dei China Study Days. Un giro a tappe per l'Italia dedicato alla informazione e alla formazione dettagliata sui temi della salute e della nutrizione con una trentina di medici e professionisti impegnati in un vivace e frizzante talk show. Dalla ginecologia alla pediatria, dall'oncologia alla cardiologia, dalla ricerca medica ai test di prevenzione in farmacia. Non perdere questi appuntamenti, sono gratuiti, ti aspettiamo. Iscriviti su www.b4it.com Unisciti a noi!